Ciao, questa è la continuazione di un mio video precedente, che è questo, parte 1, e questa vuole essere la parte 2. L'altro l'ho chiamato cosa c'è dietro e posso fare un gioco di parole dicendo cosa c'è davanti, nel senso di cosa secondo me ci aspetta, cosa io farei, cosa non mi preoccupa, cosa mi preoccupa, cosa penso di voler fare, cosa penso che sia inutile fare. Quindi per una buona metà, se tratta di mia opinione, potete tranquillamente buttarla via, una grossa parte è fondamentalmente fantascienza, cioè prendere qualcosa che c'è adesso, provare ad allungarlo a 5-10 anni, e ovviamente la parte bella della fantascienza è immaginarsi come le cose potranno andare molto peggio, non tanto quanto potranno andare meglio. In ogni caso, come ho detto nel video precedente, cerco di argomentare in modo tale che possa comunque risultare interessante, anche se non siete d'accordo e anzi volentieri parliamone in contesti dove si possa effettivamente chiacchierare con un po' di calma. Le idee chiare non le ho nanch'io, sono argomenti che sono molto interessanti per quanto mi riguarda, solo che come vedete ne escono fuori dei video lunghissimi già quando parlo da solo, figuriamoci farne una discussione assieme, è qualcosa che va fatto di persona. Parliamo tanto appunto di cose digitali, cose fatte di persona, secondo me questi tipi di argomenti sono così vasti che non trovo che il posto giusto per discuterne sia un paio di righe su Facebook. Mi piacerebbe vedere un paio di artisti come per esempio appunto Lorenz e altri su un palco da qualche parte a discutere questo argomento uno con l'altro per una durata abbastanza lunga da permettere di sviscerare l'argomento con calma. Ci sono un paio di video che vi consiglio più avanti. Apro il video con questa bella carrellata di prodotti in vendita nei quali per un paio di euro 200 immagini di questo tipo, 200 immagini di quest'altro, eccola qui appunto la monetizzazione dell'arte digitale, bellissimo. L'argomento è complesso, in realtà più che complesso è stratificato e in molte parti è completamente nuovo, per cui ogni volta che sento dei confronti con situazioni che ci sono già presentate sento di poter trovare dei motivi per poter dire no, non è come quello. Nello stesso tempo è normale fare questi confronti. Finirò per farli anch'io, sono conscio dei limiti, nello stesso tempo trovo che i paragoni siano sempre utili, cerco di far capire perché sono arrivato a formulare certi pensieri. Tra l'altro pensieri che sono tuttora in divenire, su alcuni punti sono abbastanza convinto, su altri sono completamente aperto. Come disclaimer diciamo per dire che, mentre il video più tecnico ovviamente mi sento relativamente sicuro di quello che vi stavo dicendo, per quanto possa non ovviamente aver fatto degli errori, però diciamo che qua siamo in un territorio kick sunt leones, come si suol dire, non sono più esattamente sul mio territorio e potrei fare ancora di più sbagli in questo momento. Prima di proseguire vi voglio mostrare questa cosa, uno script, ve l'ho mostrato nel video di prima. Si preme un bottone e appaiono 20 cubetti. Questo script lo ha scritto GPT-3. È un'intelligenza artificiale alla quale io ho posto questa domanda, l'ho scritta in inglese, avrei potuto porla anche in italiano. Scrivimi uno script di Blender per creare un cerchio costituito da 20 cubi che guardano verso il centro. Mi risponde, ecco un possibile script di Blender che crea 20 cubi eccetera eccetera. Questo è in Python, in Python è anche importante i tab che siano giusti, per dire me l'ha anche messo in un formato copia incollabile facilmente. Ha messo i commenti, cosa serve ogni pezzo che ha fatto? E qua sotto mi dice, lo script crea un oggetto vuoto nell'origine, poi crea un cubo nell'origine, dopodiché calcola la posizione degli altri 19 cubi attorno all'origine, li crea e li rende figli dell'oggetto centrale. Alla fine ruota tutti i cubi in modo che guardino al centro del cerchio. Puoi fare andare questo script in Blender, aprendolo, andando nel workspace di scripting, creando un nuovo blocco di testo, copiando e incollando lo script nel blocco di testo e dopo cliccando Run Script Button e questo creerà un cerchio di cubi nell'origine. Ha un paio di errori che si possono vedere anche abbastanza chiaramente. Tra l'altro anche la spiegazione ha un errore, dice che crea gli altri 19 mentre qua ne crea 20. Il primo cubo che crea il centro è del tutto inutile, questo non funziona. Ho fatto questa sostituzione, quindi che se faccio quello che dice, vengo qua, faccio play e ricevo degli errori. Io ho cambiato lo script, però mi ha risparmiato del tempo. La cosa davvero difficile, cioè come immaginare, crea appunto un oggetto, fa gli figli, mi ha risolto il problema concettuale e ha sbagliato i dettagli. ChatGPT è un'interfaccia chat, quindi facilissima da usare, verso GPT-3, un sistema di intelligenza artificiale simile a quelli per le immagini, solo che questo è basato sul testo. Posso chiedergli quello che voglio. ChatGPT nel giro di 5 giorni è arrivato a un milione di utenti. Mi sta spiegando che in questo momento non posso accedere perché sono pieni praticamente, lo stanno usando tutti. Mi spiega, nello stile di Shakespeare, in che condizioni si trova. Perché ho voluto mostrarvi questo? Perché questi sono i motivi per i quali le intelligenze artificiali sono qui per rimanere. In questo tipo di utilizzo troverete pochissime persone che si lamenteranno di problemi di copyright e della creatività. Il modo in cui l'ho usato non è creativo. La necessità era quella di fare un cerchio fatto da 20 cubi. Come realizzarlo da un punto di vista pratico è solo la perdita di tempo di disporli. Se io avevo un motivo, un'idea per disporli in questo modo, chiedendogli di farmi uno script per farlo, mi ha risparmiato la parte di lavoro quella tediosa, non quella artistica. A volte spostando il focus dall'argomento immagini a un argomento diverso, alcuni ragionamenti possano muoversi in direzioni diverse. Proprio perché l'arte è qualcosa di importante e che sveglia certi tipi di neuroni, mentre invece la programmazione in Python non è esattamente la cosa che scalda i cuori. Mi ha effettivamente fornito un algoritmo che, quando ho copiato e incollato, non ha funzionato perfettamente. C'erano dei piccoli dettagli. Io da programmatore sapevo quali erano, sono andato a ritoccarli, ma la parte di ragionamento su come ottenere quello che volevo me l'ha fatta lei, o lui, come vogliamo chiamarlo, e non mi sono sentito per niente deprivato di una parte artistica. Perché la parte artistica per me era stata decidere che mi serviva quella cosa. Dopodiché dovevo effettivamente scrivere delle righe di codice che lo facessero. È divertente, mi piace risolvere i problemi sulle righe di codice, trovare la soluzione giusta. Tra l'altro, facendo la domanda due o tre volte a chat GPT, ho ottenuto due o tre risposte diverse, ed è stato interessante il modo in cui mi ha svegliato la testa per cercare di risolvere lo stesso problema in due o tre modi. Dopodiché appunto il suo prodotto non era immediatamente utilizzabile per me e ho dovuto metterci mano, ma sapevo esattamente cosa fare. Consiglio di leggere questo articolo che è su Guerre di Rete, una newsletter di tecnologia, perché è divulgativo. Noi spesso abbiamo a che fare con articoli scritti da artisti sull'argomento. È interessante leggere lo stesso argomento guardato da altri punti di vista perché si nota che le cose che interessano di più a noi, la sostenibilità della supply chain creativa, in articoli di questo tipo riguardano un paio di paragrafetti su invece molti altri che sono comunque interessanti da leggere perché davvero noi ci stiamo preoccupando di una piccola parte. Chi parla soprattutto di argomenti generali, quando arriva all'argomento delle AI che generano immagini, non lo tratta nel modo in cui lo trattiamo noi, diventa una specie di curiosità. La gente ha voglia magari di provare queste app che gli permettono di avere i ritrattini in stile manga e cose del genere. Se qualcuno non vive dentro la nostra bolla, l'argomento è molto più semplice e meno polarizzante. Ho usato Stable Diffusion, quello che avete visto nell'altro video e che gira in locale, per aiutarmi nella realizzazione di questo sfondo. In particolare gli ho fatto generare questa texture del pavimento. Gli ho chiesto texture di pavimento indiano, più o meno. E anche queste texture di questi lati, sempre diciamo come idea di tempio indiano, in queste immagini qua dietro c'è l'utilizzo di Stable Diffusion. Non su internet per l'argomento che vi dicevo. Mi son sentito meno divertito, meno creativo mentre lo facevo? No. Dal mio punto di vista io non mi son sentito di fare niente di meno divertente del solito. Ho avuto dell'aiuto nel fare delle texture che non avevo nessun interesse nel fare a mano. Questo tra l'altro è un lavoro nell'animazione, nella quale io dovevo rispettare delle reference, come tipico dell'animazione dovevo copiare dei personaggi, degli ambienti che erano già stati disegnati, erano già stati preparati. Questo per fare full disclosure è qualcosa che ho già inserito in alcuni casi all'interno del mio flusso di lavoro, che trovo decisamente interessante e utile in molte situazioni. Questo è il grezzo di una delle immagini generate da Stable Diffusion, che ho usato come reference. Anche questa e questa. In mezzo sono state generate decine di altre con la procedura che avete visto e ho finito per scegliere quelle che mi erano più utili dal punto di vista del design. Negli anni dieci, quando qualcuno ti chiedeva qualcosa, uno andava nella ricerca immagini e le cercava. Poi ovviamente non bisogna utilizzare le foto altrui. Sia Google che altri motori di ricerca hanno per esempio la possibilità di andare a cercare immagini con licenza di utilizzo commerciale gratuito. Molte hanno comunque una richiesta di attribuzione, cioè sì, la puoi usare gratuitamente anche su prodotti commerciali, ma devi dire che è mia. Però diciamo che gli strumenti ci sono e questo è quello che si continua a fare, che si faceva fino ad adesso, in cui abbiamo eventualmente queste IAI. Chiedere l'immagine a un generatore automatico di immagini in un contesto di questo tipo è la sicurezza che l'immagine che ottengo non sia coperta da alcun copyright. Le immagini costruite dalle intelligenze artificiali dichiarano di poter essere utilizzate liberamente senza appunto che ci sia la possibilità di farci valere dei copyright sopra. perché appunto non esistevano prima, vengono generate nel momento in cui esistono. Nel momento in cui un fornitore di un servizio mi dice questa cosa, è sua responsabilità garantirmi che è così. Non è responsabilità del consumatore di un prodotto verificare che le dichiarazioni del produttore siano davvero quelle. Se mi fornisci un servizio di generazione immagini vuol dire che sei stato tu a garantire di rispettare la legge in tutte le fasi precedenti, come è normale per un consumatore non poter controllare tutte le fasi di un processo che non è sotto il suo controllo, verificare che il venditore abbia rispettato tutta la normativa. È un po' diverso quando adesso veniamo a sapere che non è così. Da un punto di vista etico il fatto di saperlo mi pone nella posizione di dover possibilmente smettere di acquistare quel prodotto, perché mentre prima non lo sapevo e non era responsabilità mia saperlo, nel momento in cui vengo a sapere che qualcosa non è rispettato, per quanto mi riguarda si tratta di incauto acquisto. Stai sapendo di comprare qualcosa che non va bene, esattamente come comprare le borse contraffatte agli angoli delle strade. C'è una corresponsabilità tra il venditore e l'acquirente. Qui su Google o DuckDuckGo, che credo utilizzi Bing come motore di ricerca per le immagini, ho la possibilità di chiedergli per favore a me interessa un'immagine nella quale non ci siano dei diritti d'autore e mi offre queste possibilità. Non dico che scegliere qui vuol dire che posso usarla in qualsiasi caso, però mi viene fornito uno strumento che mi informa e mi permette di scegliere in base all'utilizzo che devo fare. A quanto pare Stable Diffusion e amici hanno pensato bene che questa cosa non è necessaria. Questa Lion è il principale fornitore dei dataset che stanno dietro a Stable Diffusion e in pratica a tutti questi generatori. Questo è un disclaimer che hanno messo sul loro ultimo pacco, diciamo, di immagini, che comprende 5 miliardi appunto di immagini, in forma del fatto che sono stati ottenuti con uno scraping fondamentalmente selvaggio, c'è dentro di tutto cose non adatte al lavoro, cose dove la privacy non è stata rispettata e ovviamente lo mettono pure in grassetto, l'hanno scritto l'altro giorno, però c'è scritto non raccomandiamo di usarle per creare prodotti pronti da vendere fondamentalmente. Notare il non raccomandiamo di usarle, non vi vietiamo di usarle, perché non è neanche il loro compito dire questo. Se poi andiamo nelle domande frequenti, rispetto alle leggi sul copyright, i dataset di Lion sono indicizzazioni dell'internet, fondamentalmente dicono noi siamo come Google, scansioniamo e salviamo tutto, dopodiché dateci un'occhiata a voi, perché dice i ricercatori, parlano sempre di ricercatori. Quindi il loro punto di vista è noi forniamo dei dati per la ricerca, i dati per la ricerca devono essere moltissimi, è una questione di numero, e fare delle accopiate testo, immagine, nel numero di 5 miliardi, chiedendo a delle persone di scrivere a mano quei testi, è un lavoro impossibile. Quindi loro dicono noi abbiamo fatto scraping, cioè abbiamo arato tutto internet, cercando tutte le accoppiate di testo e immagini e le abbiamo messe nel nostro archivio, che è quello che fa Google quando andiamo a cercare qualcosa. Quando utilizzo un motore di ricerca, mi dà dei risultati che sono basati non sulla ricerca immediata su internet, ma sono basati su un archivio che si è fatto precedentemente, scansionando fondamentalmente tutto internet e con un sistema interno che determina la qualità di un motore di ricerca o l'altro, decide quali sono i risultati da mettere in prima pagina e sono risultati che sono stati appunto arati su tutto internet senza chiedere il permesso giustamente, perché altrimenti non funzionerebbe. c'è la possibilità per chi crea i contenuti di mettere un file robots.txt diciamo sul proprio sito e di dire no, mi dici questa pagina per favore non sta a indicizzarmela. In ogni caso è un per favore. Il motore di ricerca non può funzionare senza avere tutti i dati. Qui nessuno si lamenta del copyright perché i risultati poi sono un link alla pagina vera e propria e quindi diciamo che su Google o sul motore di ricerca ci rimane uno piccolo spezzone. Certo, se uno si accontenta di quel piccolo spezzone e non si muove sul sito esterno, effettivamente sono stati rubati dei dati al fornitore. È il motivo per il quale molti siti di news si sono lamentati del fatto che appunto Google News pubblicava quel paio di righe del testo della news insieme al titolo e le persone non andavano oltre a quello e quindi non finivano sul sito e quindi non c'era nessun ricavo per loro e si sono lamentati di questo e c'è stato un grosso impegno legale e in molte parti del mondo la soluzione è stata diversa in diverse nazioni del mondo e c'erano appunto i giornali contro Google. È famoso il caso di Google Books. Diciamo che aveva pensato noi di Google scansioniamo tutti i libri di carta in maniera tale di permettere alle persone di cercare nei libri di carta. Dopodiché uno può usare questo motore di ricerca Google Books cerca i pezzi del libro quando c'è una soluzione vede la pagina dove si trova quello che ha cercato e dopodiché nella stessa pagina ci sono i link che permettono di acquistare il libro eccetera. Hanno avuto grossi problemi legali perché quello che hanno fatto scansionare tutti i libri del mondo senza permesso era una violazione del copyright. Loro si sono difesi dicendo sì ma noi non mettiamo a disposizione i libri uno può leggere un paio di pagine per leggere le successive c'è anche il link all'acquisto e quindi anzi vi aiutiamo uno può sapere dove comprare il libro può cercare e trovare dei libri che non avrebbe mai trovato eccetera eccetera. Questo è un caso che ha violato il copyright secondo le normative esistenti e hanno dovuto cercare una soluzione un accordo che tra l'altro adesso non ricordo esattamente quale è stato e anche qui comunque le soluzioni sono state diverse da nazione a nazione. Esistono generatori con intelligenza artificiale di musica molto semplice scelgo il genere quanto lungo voglio il pezzo musicale che faccio genera la traccia musicale è pronta posso fare play l'ascolto questa è stata generata automaticamente da un sistema di intelligenza artificiale ci sono ovviamente delle licenze di vario tipo da rispettare nel bugiardino classico di chi siamo e quanto siamo bravi in ogni caso hanno un capitolo che pensa di spiegare come si comportano fondamentalmente tutti i sistemi di generazione di musica tramite intelligenza artificiale si basano su degli archivi di musica non protetta dal diritto d'autore e questo è uno dei motivi per i quali i risultati non sono granché buoni la quantità di dati è uno degli elementi che determinano la qualità del risultato delle intelligenze artificiali da un punto di vista teorico come quelli di Lion possono crearsi le loro basi di dati uno potrebbe crearsi la propria e quindi avere un training personalizzato utilizzare sempre per esempio stable diffusion ma creare il modello basato sulle proprie immagini per esempio se uno è un creatore di immagini e poi cominciare a utilizzare lo stesso sistema interrogandolo con delle parole per fargli generare delle varianti basate su un modello che è più che coperto dal diritto d'autore nel senso che è proprio solo che quante immagini ha a disposizione un artista e tra l'altro abbastanza diverse nell'ordine delle centinaia, delle migliaia il miliardo è un numero molto grosso un miliardo di secondi sono 32 anni anche immaginando di metterci un secondo a scrivere la descrizione di ogni immagine ci metterei 32 anni a inserire un miliardo di immagini dentro all'archivio ipotetico che contiene solo le mie immagini al patto di avere un miliardo di immagini Lion ne fornisce un pacco da 5 miliardi è chiaro che non possono essere stati fatti da esseri umani le accoppiate testo immagini perché neanche mettendo plotoni di persone è come immaginare che YouTube guardi i video che vengono uploadati a mano per vedere se sono buoni o no è chiaro che dietro c'è un sistema automatico di generazione di queste coppie testo immagine mettiamoci anche nei panni di un'azienda enorme che lavora da tantissimi anni come la Disney da 70 anni produce immagini anche se davvero potesse chiamando migliaia di persone a lavorare inserire in un modello di training di intelligenza artificiale tutte le proprie immagini dell'archivio associandolo ognuna a tutta una serie di parole chiave sarebbe un lavoro di anni ora che hanno finito siamo già alla prossima generazione e chissà in che altra maniera bisognerà fare il training chissà cosa ci si sarà inventati dopo il modello a diffusione che attualmente è quello che stiamo usando il training significa fare quel lavoro sul rumore che vi ho spiegato nel video precedente e quindi è chiaro che appena cambia la tecnologia il training cambia completamente e bisognerebbe ricominciare da capo non esiste azienda al mondo che possa fare training solo sulle proprie immagini e sperare di avere dei risultati buoni non esiste ora perché ovviamente ci sono già intelligenze artificiali che riescono a dare risultati migliori con meno punti di partenza per cui è solo una questione di tempo ma per dire che dovessimo rinunciare al dataset principale che viene usato in tutto il mondo adesso nella generazione immagini probabilmente avremmo alla tecnologia attuale dei risultati che non sono quelli che finiscono sui titoli dei giornali e dappertutto adesso se adesso vediamo dei buoni risultati è perché con la tecnologia attuale i buoni risultati sono dovuti solamente all'enormità del database che è stato messo insieme e non con criteri commerciali ma semplicemente appunto completamente open 100% non profit 100% gratuito cioè loro dicono noi siamo una no profit lavoriamo con uno scopo di studio e di progresso scientifico e quindi noi siamo a posto chi usa i nostri dati si arrangi a essere a posto lui curiosamente quando utilizziamo stable diffusion non possiamo per esempio utilizzare i nomi di attori è per evitare che qualcuno faccia deepfake o qualcosa del genere ma abbiamo visto che per la musica fin da subito il training delle AI è stato fatto su cose non coperte da diritto d'autore è chiaro che c'è un comportamento diverso a seconda del materiale di partenza sono immagini su internet e le immagini su internet le peschiamo senza chiedere niente a nessuno è musica e no attenzione sono attori faccia di attori no attenzione ma perché perché si sa che in quei due settori ci sono gruppi di difesa dell'esistente piuttosto agguerriti che hanno già dimostrato di andare in tribunale volentieri e i tribunali hanno già dimostrato di avergli dato ragione più volte perché in realtà è da un pezzo che non diamo valore alla creazione delle immagini non siamo solo noi non è una cosa italiana è una cosa globale sento da sempre gli autori lamentarsi del fatto che postano qualcosa su internet e poi se lo ritrovano in vendita sulle magliette sui bicchieri cioè non serviva l'intelligenza artificiale per rubare le immagini agli autori succede di continuo con gli account fasulli quelli che fanno repost e magari non scrivono neanche di chi è quelli che anche se scrivono di chi è non importa alla fine ci campano di più sul lavoro fatto da altri secondo me questa cosa dello scraping indiscriminato di immagini quasi quasi mi verrebbe da dire che l'hanno fatto in buona fede nel senso che davvero se ci spostiamo in un mondo di persone che non lavorano con le immagini sono abituate quando vedono un'immagine su internet fare tasto destro salva stampano e anche quando diciamo si cerca di bloccare il tasto destro è chiaro che se un'immagine è sul tuo computer la puoi stampare puoi fare quello che vuoi non è perché hai messo un javascript che blocca il tasto destro che la situazione si risolve diciamo che ho voluto trollare un amico e gli ho chiesto di chi è l'immagine che adesso sta spopolando con il divieto sopra AI per fortuna il nome è uscito ad un certo punto però non è scritta su questa immagine e credo pochissimi quando hanno cambiato la propria immagine con questa hanno detto ah sì questo marchio che sta diventando un marchio ben preciso e c'è della creatività il simbolo di divieto si posiziona sopra la AI escono non voglio dire che serva che ci sia qualcosa di particolare perché in realtà potrebbe anche essere brutto e fatto male ma avrebbe comunque il diritto di essere citato come autore di questa immagine è inutile raccontarsela anche per noi a volte usare un'immagine non ci fa prima venire in mente l'idea di devo dare credito a chi l'ha fatta un'enorme parte della nostra comunicazione attuale passa attraverso GIF meme sono condivisioni di immagini nella quale nessuno è abituato non solo a mettere i crediti ma neanche a chiedere il permesso per farlo queste immagini la maggior parte arrivano da autori anche quando sono brutte non importa è da anni che ci siamo abituati a utilizzare le immagini senza preoccuparcene non è diverso dalla musica da ascensore sono immagini che diventano da ascensore diciamo anche quando non lo sono in partenza questi usi sono tutti considerati fair use insomma si bloccherebbe tutto se dovessimo diciamo chiedere il permesso ogni volta agli autori di qualsiasi immagine questa situazione di mancato rispetto verso le immagini e verso l'uso delle immagini su internet proviene da prima e quindi senza togliere responsabilità quelli di Lion mi viene comunque da dire forse non ci hanno proprio pensato questo non vuol dire che nel caso non ci siano delle violazioni non meritano le multe necessarie però che non ci abbiano pensato è quella una delle cose che trovo più importanti rispetto al discorso sull'intelligenza artificiale si sono permessi di farlo perché da anni ci si permette di farlo mentre invece verso attori e verso musica no quelli non si toccano io sono abbastanza vecchio da ricordarmi di Napster nel suo periodo diciamo scopro tra l'altro che ancora vivo mi permetto di andare in modalità vecchietto al cantiere e di dire ai miei tempi quando è uscito Napster era qualcosa di completamente illegale ha avuto una miriade di problemi illegali con le case discografiche e questo è un punto sul quale voglio tornare in qualche modo a un certo punto Napster è finito erano nati tutti i vari figlioletti Napster ha insegnato a tutti a scaricare la musica non si parlava ancora di streaming perché erano i tempi nei quali se si stava su internet si aveva il telefono occupato probabilmente ma senza proprio diventare davvero di Clint Eastwood sotto il portico col fucile che vi racconta dei vecchi tempi quello che ha fatto Napster è stato cambiare il modo in cui si usufruiva in quel caso della musica ma poi è diventato dei contenuti digitali e io ricordo la risposta che c'è stata da parte del mercato musicale a questa enorme minaccia che si è trovato davanti da parte del progresso tecnologico avevamo tutti sempre fatto le cassettine per gli amici per la fidanzata registrando le cose dai cd quando hai una cassettina la fai stai copiando della musica stai violando un copyright nel momento in cui c'è internet a fare questa cosa lo stesso gesto diventa talmente enorme e come al solito capita che la quantità assume una qualità tutta sua era come essere passati dal fucile ad avancarica alla mitragliatrice non è per niente la stessa cosa anche se fondamentalmente è lo stesso principio mi ricordo la risposta completamente scomposta del mercato musicale all'epoca che si è inimicato l'intera clientela in pratica ha criminalizzato completamente un'attività che la maggior parte della gente non viveva come criminale anche perché non si trattava di una difesa portata avanti dagli artisti o meglio da alcuni si e infatti quelli hanno fatto anche loro una brutta figura nei confronti dei fan ma è stata una difesa corporativa dell'industria musicale che ovviamente è quella che ha i soldi per fare le cause e ha qualcosa da difendere non il piccolo gruppo nel garage prendersela con il singolo problema con Napster con i Mule tutto quello che usciva dimenticandosi che nel frattempo quello che è arrivato nella testa delle persone è che la musica si usufruisce in un altro modo è diventato download adesso abbiamo lo streaming è nato tutto quella volta io mi chiedo in cosa evolverà tra 5 anni che adesso ancora non vediamo e se non rischiamo in questo momento di star prendendocela con l'obiettivo sbagliato chat GPT GPT3E che c'è sotto ci può offrire qualcosa di importante per gli sviluppi futuri avete visto quello che vi ho fatto vedere prima nella quale io posso chiedergli di programmare da dove viene quel codice da tutto il codice che è stato messo su internet in questi anni dalle persone che si aiutano una con l'altra si fanno delle domande si danno delle risposte e viene molto dall'open source quei programmi che non sono proprietà intellettuale di un'azienda che li nasconde ma a disposizione di tutti quanti è un movimento cominciato piccolo però adesso ha portato dentro anche degli attori come Microsoft per esempio che una volta erano decisamente opposti all'open source negli anni 90 e 2000 adesso è un modello di sviluppo che ha dimostrato di saper funzionare lo stesso blender del quale appunto parlo sempre sul mio canale è un prodotto open source il suo codice sorgente è disponibile su internet è stato messo a disposizione di tutti gratuitamente ma questo non vuol dire che le cose open source possano essere rapinate sono aperte che chiunque può contribuire e che può anche fare delle cose nuove e anche delle cose commerciali a partire da lì ma rispettando certe regole Github un sito molto grosso diciamo di programmazione per farla semplice ha cominciato a mettere in piedi un suo sistema di appunto aiuto tramite intelligenza artificiale chiamato Copilot che è simile a quello che avete visto ti scrivo io il codice tu dimmi cosa ti serve solo che in questo momento c'è una class action negli Stati Uniti contro Github proprio perché ha utilizzato codice open source per riempire diciamo il suo motore questa cosa io la trovo molto interessante questa causa non è fatta da qualcuno che ha una proprietà intellettuale ma è fatta proprio perché non c'è una proprietà intellettuale l'open source è vissuto come un bene comune e non gradisce molto che venga rubato quindi nello stesso tempo è aperto a tutti ma non vuol dire che ci si possa fare quello che si vuole free as free speech not as free beer siete liberi di usarlo ma non nel senso che è gratis ci fate quello che volete ed è molto interessante vedere come andrà a finire questa causa perché negli Stati Uniti la giurisprudenza fa legge ed è qualcosa di molto simile a quello che sta succedendo con i generatori automatici di immagini semplicemente stiamo parlando di codice invece che di immagini e soprattutto è interessante perché quel codice è libero ed è aperto all'intero mondo è condiviso con il mondo non è coperto da copyright ma è coperto da delle licenze diciamo copyleft nella musica erano stati grossi gruppi musicali nel caso appunto di GitHub c'è questa grossa azienda nel caso dell'arte chi sarebbe che si occupa di fare queste cause è un punto importante questa per esempio è una pagina di questa concept art association che non conosco che si pone questo problema e si offre di fare della lobbying sull'argomento cosa abbiamo intenzione di fare dice aggiornare le leggi che riguardano la privacy che riguardano le proprietà intellettuali per me è un punto estremamente importante capire a chi diamo in mano questa cosa perché è facile dire l'arte gli artisti però poi le cose devono essere fatte da degli enti veri e propri nel caso della musica si sono occupati di fare tutte queste cause che hanno visto andare in tribunale anche dei ragazzini facendo delle figure veramente pessime nella quale un enorme azienda miliardaria porta in tribunale un bambino di 15 anni che ha scaricato due canzoni da internet cose che hanno distrutto l'immagine dell'industria musicale sono state fatte da delle grosse aziende ci aspettiamo noi autori che questa difesa dei nostri diritti sia in mano alle grandissime aziende che si occupano di vendere arte e proprietà intellettuale io non credo che sia una buona idea che i miei diritti siano difesi da Disney o per restare in Italia e senza cattiveria da Sergio Bonelli editore non perché ce l'abbia con loro ma per dire che non sono completamente sicuro che gli interessi della grande azienda alla quale io fornisco i miei servizi siano i miei interessi di autore in Italia abbiamo nato da pochissimo MEFU come associazione mestieri del fumetto per dire io sarei un po' più tranquillo se fossero loro ad occuparsi di un argomento del genere un problema di dimensioni MEFU ok è nato da poco però stiamo parlando di sono i numeri che indicano loro 200 iscritti in Italia siamo molto di più come autori credo che su questo argomento noi autori non dobbiamo aspettare che ci pensino le grandi aziende del copyright come ho sentito dire vedrete quando si muoverà la Disney su questa cosa delle AI io sono abbastanza sicuro che quando si muoverà la Disney non lo farà per tutelare me comunque attualmente quello che c'è dietro il database di Stable Diffusion è chiaramente una rapina di tutto quello che c'era su internet fatta senza alcuna preoccupazione sono perfettamente d'accordo con gli attivisti sul fatto che questa cosa non andava fatta non doveva essere fatta è il sintomo di un trattamento pessimo dell'arte io appunto come dico trovo che sia un trattamento che era già presente e che questa cosa del AI ha messo in risalto ma che proviene da più lontano e credo che anche nel momento in cui si riuscisse a rendere responsabili di fronte a qualche tipo di legge perché ovviamente dipende l'Italia Stati Uniti Europa Cina ce n'è tantissime di leggi diverse anche se dovessero rispondere diciamo dei danni fatti finora questo non vuol dire che la novità della generazione automatica delle immagini scompaia e mi fa venire ancora più brividi freddi pubblicare un titolo del genere come fosse una buona notizia la Cina regolerà i contenuti generati io ho capito che il nemico del mio nemico è mio amico ma io non credo che la regolazione cinese dei contenuti online sia proprio tra le migliori al mondo da citare come grande idea per la difesa degli autori e della loro libertà di esprimersi sarà prevenuto nei confronti della Cina forse ok dobbiamo difendere certi diritti ma a me interessa molto sapere a chi stiamo chiedendo di difenderli forse non mi faccio molto voler bene qui ma essere artista significa avere una componente molto forte di amore per se stessi e per quello che si fa io non voglio arrivare a chiamarlo egoismo però non mi stupisce che gli artisti facciano molta più fatica a organizzarsi in associazioni rispetto ad altri gruppi di lavoratori in altri settori mi sembra abbastanza fisiologico rispetto a qual è la psicologia di un artista e tra l'altro è anche una cosa positiva da altri punti di vista nel senso che pur avendo una marea di colleghi io non li ho mai vissuti come dei concorrenti ed è un ambiente nel quale si vive molto bene anche con i concorrenti diciamo ci sono lati positivi e negativi secondo me è abbastanza normale che gli artisti tendano a non associarsi molto tra di loro mi dispiace e spero di sbagliarmi e infatti pubblicizzo mefu per quanto possibile perché ogni volta che vedo una possibilità di aggregazione per degli autori nel settore del fumetto e dell'illustrazione dove sento sempre che i problemi derivano dall'essere da soli e non sapere come comportarsi di fronte alla committenza io credo che l'associazionismo sia sempre la soluzione migliore comunque vadano cause di questo tipo e qui ovviamente faccio delle previsioni sul futuro e quindi mi sbaglierò sicuramente se il percorso fino ad adesso è stato questo di costante diciamo svilimento del contenuto grafico di conseguenza l'AI nasce da questa situazione io non credo che facendo una causa legale a quelli che attualmente stanno effettivamente facendo quello che vi ho detto che dal mio punto di vista è una razzia però non credo che risolto quel problema di questo particolare dataset fatto con i piedi la generazione automatica di immagini è qui per rimanere nel momento in cui avranno sistemato questo anche quello che adesso pare un limite tecnico che è quello di un database più piccolo nel quale tiriamo via le cose coperte da diritto d'autore sarà più scarso io credo che questo tecnologicamente verrà superato nel giro di poco funzionano sempre sempre meglio con sempre meno dati e per me è un'ottima cosa che siano nati questi strumenti quando ero ancora un programmatore e avevo 20 anni dicevamo una cosa spesso alla macchinetta del caffè quello che riuscirà a trovare il modo di categorizzare quello che ci stiamo dicendo adesso alla macchinetta del caffè avrà fatto davvero i soldi per quanto si facessero delle riunioni molti dei problemi venivano risolti davvero chiacchierando davanti alla macchina del caffè ma in quel momento il knowledge management come si suol dire di quel sapere era assolutamente impossibile quello che ci permetteranno le intelligenze artificiali è di fare esattamente questo noi è da anni che riempiamo internet di contenuti e abbiamo cercato coi motori di ricerca di renderli accessibili abbiamo anche scoperto che c'è un problema di conservazione dei dati di uno storico c'è l'internet archive i siti scompaiono l'intelligenza artificiale probabilmente per come la vedo io è un modo con il quale se voi ci levate l'arte e pensate appunto a questo chat GPT è un modo per accedere alla conoscenza che è stoccata su internet in un modo che la rende finalmente molto più accessibile non sta in realtà creando cose nuove le sta rendendo più facili e secondo me fa parte di qualcosa di molto umano una delle caratteristiche degli esseri umani è quella di essere in grado di trasmettere la propria conoscenza passata ai piccoli della specie senza che debbano imparare tutto da capo anche il più intelligente degli animali tende purtroppo a essere lo stesso di 500 anni fa perché anche il polpo più intelligente impara tutto da capo perché mamma polpo non può passargli la conoscenza di 500 anni di polpi che hanno imparato cose noi abbiamo cominciato a scrivere per questo motivo e trovo che la trasmissione della conoscenza a persone che non se la sono meritata sia una delle caratteristiche che abbiamo come specie io non ho fatto niente per meritarmi le strade la medicina la presa elettrica nel muro sono tutte cose che ho trovato pronte e che utilizzo volentieri e che non mi sono meritato ed erano già pronte e quindi è vero con la generazione automatica di immagini tramite intelligenza artificiale persone che non hanno fatto il percorso artistico saranno in grado di generare immagini non la viviamo molto bene questa cosa come creatori di immagini però io credo che le nuove generazioni saranno loro a decidere se questa cosa gli interessa oppure no non se è bene o male ma se gli interessa oppure no e in base a quanto la useranno o non la useranno questo ne determinerà il fatto che resti qui oppure no per quanto mi riguarda avere delle immagini generate dalle AI e dire che sono tue è l'equivalente a salire con l'ascensore sulla montagna e dire che l'hai scalata non riesco a vederne la necessità tuttavia non credo che sia per forza una cattiva idea costruire degli ascensori per andare sulle montagne in molte montagne ci si va con la funivia questo non toglie la possibilità a chi scala di scalare e nello stesso tempo magari offre degli usi in più che prima non erano possibili quindi non voglio trovarmi nella situazione di dire no faccio una battaglia contro questo strumento perché mi trovo dalla parte di quelli che non ne hanno bisogno non è mai piacevole quando qualcuno che non ha bisogno di qualcosa stabilisce che gli altri anche loro non devono averla almeno io la vedo così quando avevo 20 anni ero per l'abolizione della proprietà intellettuale anche perché non vivevo di proprietà intellettuale pur essendo adesso in una situazione nella quale la proprietà intellettuale mi dà da vivere continuo a pensare che sia meglio per l'umanità un mondo in cui non c'è il copyright io credo che funzioni bene l'open source e credo che funzioni bene la condivisione del sapere con tutti quanti il copyright è stato inventato letteralmente l'altro giorno 50-70 anni fa il grosso del nostro progresso l'abbiamo fatto in un mondo senza copyright è una posizione mia ve la dico perché io in questo modo taglio il problema all'origine non mi interessa sinceramente se hanno violato o meno il copyright quelli di Lion eccetera nel senso che appunto come vi ho detto credo che risolva un problema molto piccolo che esiste solo in questo momento e che ci stiamo dimenticando il quadro più grande e nello stesso tempo personalmente se questo è l'inizio della fine del copyright a me non dà fastidio ma questa è una posizione mia e mi rendo conto che è anche piuttosto estrema questo è un libro che eventualmente potete valutare tra l'altro ovviamente essendo il libro con questa posizione qui lo trovate in vendita ma il libro è disponibile ovviamente gratuitamente online è possibile leggerlo credo in inglese non in italiano qui ci sono delle argomentazioni diciamo da destra su perché il copyright sia un monopolio e quindi come tutti gli economisti di destra non vedono bene i monopoli la stessa argomentazione lasciare liberi i contenuti creativi arriva anche diciamo da sinistra attraverso tutto quello che è creative commons il copyleft quindi diciamo che per quanto mi riguarda mi interessa poco di chi è il copyright anche perché appunto alla fine sarà di Disney e queste grosse mega aziende a me piace che l'intera umanità possa progredire attraverso la condivisione del sapere e dell'arte e mi interessa anche che i miei colleghi stiano bene ma i miei colleghi nel senso degli artisti voglio toccare anche un altro punto tanto ormai questo video è enorme quando usiamo la parola arte sembra sempre che per forza dobbiamo parlare di qualcosa di enorme esiste moltissima arte nel senso di immagini che vengono generate suoni che vengono generati che non per forza devono essere così importanti io vengo dal mondo dell'informatica nel quale è normale sapere che quello che fai avrà la durata di vita di un volantino dell'Eurospin anche quando hai fatto la cosa più bella e graficamente migliore del mondo quando facevo il programmatore ho lavorato per un paio di mesi felicissimo perché ero riuscito a fare un software davvero interessante client server e tutto quanto che funzionava benissimo e poteva disegnare sulla pagina web una mappa quindi bastava mettere le coordinate e appariva un bel puntino rosso in quella posizione un paio di mesi di lavoro quando l'avevo quasi finito Google ha annunciato Google Maps e faceva mille volte meglio gratuitamente quello sul quale io avevo lavorato per un paio di mesi è da quando ho 20 anni che mi sento obsoleto ogni paio di mesi su tutto quello che faccio non è che gli sto togliendo importanza ci sono delle cose che faccio per arte ci sono anche delle cose che faccio sempre con il piacere di farle ma più con l'approccio di un artigiano che nel momento in cui prepara una sedia una finestra la fa al meglio possibile però non è che per forza la deve firmare ecco e che vuole che tutta l'umanità sappia che è sua da qui alla fine dei tempi molta arte viene creata in quantità davvero enormi quando si fa un videogioco di questi open world si mette in piedi dei sistemi di distribuzione casuale di tutti gli alberi i sassi ci sono degli algoritmi che cercano di disporli nel miglior modo possibile non si può pensare che ci siano degli artisti che hanno posizionato ogni singola fogliolina c'è bisogno di metodi diciamo automatici se finora abbiamo usato math.random con dei criteri molto arzigogolati se l'intelligenza artificiale può generare le texture il contenuto delle stanze credibile sempre diverso non c'è una decina di elementi random nella decima stanza in cui entro piena di zombie i quadri sulla parete alla fine sono sempre quelli l'intelligenza artificiale può aiutarci a fornire non solo dei quadri diversi ma potrebbe fornirci dei quadri che hanno senso rispetto a quello che è capitato in quella stanza alla famiglia che sta lì anche se non c'è nessuno che l'ha pensato dare maggior credibilità a queste cose che stanno sullo sfondo piccoline ma che sono tantissime questo è uno spazio nella quale lo sviluppo delle intelligenze artificiali potrebbe portare un grande avanzamento dal punto di vista qualitativo di quello che avremo davanti secondo me è nei videogiochi uno dei posti dove vedremo più facilmente un uso di questa generazione di immagini automatiche perché è un settore che prima di tutto è per forza di arte digitale e tra l'altro ha questa esigenza di creare enormi quantità di contenuti di tipo visivo che tra l'altro va detto che al momento sono sì creati da persone ma che secondo me non è che si trovano per forza in contesti artistici sappiamo benissimo qual è il livello di stress alla quale sono sottoposti molti lavoratori nel campo dell'arte visiva nei videogiochi è la classica industria come anche quella dell'animazione in cui la quantità di lavoro è tale che spesso si dice beh questa cosa la facciamo fare agli indiani questo modo di esprimersi dice tutto un'industria che è pronta a utilizzare una frase del genere secondo me non ha nessun problema nel momento in cui fornisce dei risultati decenti ad affidarlo a una generazione automatica probabilmente riuscirebbe a dirigerla artisticamente meglio e quindi sì in questo caso forse porterà via del lavoro del lavoro che io personalmente non credo che sarebbe stato divertente fare posizionare foglioline in videogiochi e in questo settore secondo me è forte anche la richiesta di personalizzazione credo che cominceremo a vedere del contenuto che non solo è generato automaticamente per i motivi della narrazione all'interno del gioco della storia del film ma cominceremo a vedere dei contenuti generati automaticamente perché piacciono a noi che ne stiamo usufruendo la home di netflix presenta le thumbnail quelle con le quali scegliamo in maniera diversa a seconda di che persone siamo per convincerci a vedere il prossimo contenuto e quindi l'home page di un nostro amico esattamente come la bacheca di facebook di un nostro amico è completamente diversa la personalizzazione raggiungerà anche il contenuto grazie alla generazione delle immagini automatica è solo una questione di potenza computazionale che verrà risolta nel giro di pochissimo mi avete visto far girare stable diffusion qua su un computer a casa fino all'altro giorno era impensabile sono uscite delle schede video che lo hanno permesso quelle che sono uscite quest'anno valgono già due volte quelle di due anni fa e come al solito c'è la legge di Moore all'opera è stata rispettata molto a lungo non va presa come una legge generale del mondo però è chiaro che tra poco avremo i video generati al momento potremmo avere delle personalizzazioni all'interno dei contenuti sia video sia quelli che vediamo sui social network le piattaforme di streaming che saranno confezionate apposta per noi nei videogiochi è già roba vecchia questa della personalizzazione dei personaggi mettere la propria foto e utilizzare il proprio personaggio ma quello sarà solo l'inizio è la cosa meno fantasiosa la richiesta di personalizzazione nei videogiochi esiste già io mi aspetto di vederla presto anche nei contenuti audiovisivi quelli scriptati quelli su sceneggiatura tra l'altro può benissimo succedere che sia personalizzato non sulla base di quello che gli chiediamo ma sulla base di quello che vogliono presentarci in base a chi siamo questo problema c'è già nel mondo della pubblicità immaginate l'ho trasportato nella creazione audiovisiva contenuti generati al volo esclusivamente per noi la virtual production contenuti digitali in real time è già all'interno delle normali produzioni cinematografiche e televisive contenuti non più in green screen messi dopo ma generati automaticamente al volo dietro gli attori mentre recitano queste cose sono già qui si tratta solo di avere la potenza di calcolo di personalizzarcele al momento in cui stiamo guardando non è una cosa tranquillizzante non potremmo fidarci di alcun contenuto audiovisivo sia la voce che il video che lo stesso contenuto testuale chiede al GPT di imitare il modo di parlare mio può essere letto da una voce artificiale e piazzato sulla mia faccia artificiale e potrà uscire un video in cui anche chi mi conosce probabilmente non è in grado di distinguere questa cosa non è tranquillizzante trasversalmente riguarda l'arte digitale noi stiamo preoccupandoci della questione del copyright delle immagini che abbiamo messo su internet io trovo che le ramificazioni sull'evoluzione di queste cose possano creare delle preoccupazioni che per me sono un pelo più importanti di aver tolto del lavoro ad alcuni artisti o non averne rispettato la loro eredità dopo che sono morti perché sì c'è anche un'enorme quantità di contenuti sulle quali non abbiamo controllo perché chi l'ha generato non è più qui a decidere in che modo utilizzare quei dati per quanto tutta la popolazione mondiale possa mettersi d'accordo su qualcosa c'è ormai un bel po' di contenuto online che non è più protetto da nessuno perché ovviamente non esiste privacy se non c'è un essere umano a richiederla imparare tutte le tecniche che sono necessarie per fare un buon lavoro artistico è qualcosa che prende molto tempo io non credo che questa cosa sparirà però con il tempo può essere che molte persone potranno ottenere dei risultati migliori in meno tempo non ho voglia di dire che sia un male perché io non credo che la qualità dell'arte derivi dalla quantità di tempo che ci hai messo come si suol dire non sono i 5 minuti che ci ho messo ma sono i 60 anni di vita che mi hanno portato a farlo in 5 minuti io credo esistano persone che hanno la capacità di immaginare e non hanno le capacità tecniche per estrarre questa cosa dal cervello io cerco di imparare il modo migliore per far uscire dalla mia testa le cose perché gli somiglino il più possibile a come erano nella mia testa anche quando arrivano sul foglio oltre a quella parte personale di piacere nel fare qualcosa che non mi veniva e adesso mi viene esattamente come salire sulla montagna dalla soddisfazione non solo quando si è arrivato in cima ma anche mentre lo si fa sarà masochismo ma è piacevole far fatica sapendo di starsi migliorando questa cosa con le AI non ci sarà ma io non credo che non esisterà comunque la ricerca di questo tipo di piacere da parte degli esseri umani che avranno a disposizione anche le AI perché infatti non abbiamo smesso di andare in montagna solo perché abbiamo gli elicotteri e le funivie io stesso sono diventato colorista e ok ho imparato anche a dipingere a olio ma ho imparato a dipingere a olio paradossalmente dopo che ero diventato colorista perché mi interessava ma sono diventato colorista salendo sulla testa di persone che erano molto più brave di me ma sui fogli di carta e in quel momento le case editrici chiedevano file digitali grazie a una capacità tecnologica che non era così diffusa in quel settore e quindi siccome io ho fatto quella strada non me la sento di dire che questo strumento questa possibilità di mangiarmi in testa e superarmi da parte di chi adesso ha 15-20 anni non sia corretta cioè hanno tutto il diritto di fare la stessa cosa mi rendo conto che non devo essere io a dire come sarà la prossima arte non va chiesto a me e comunque appunto se qualcosa non piace molto probabilmente non verrà utilizzato voglio essere un po' provocatorio perché in questi giorni pare che l'arte sia in pericolo perché ci sono le intelligenze artificiali allora io me lo ricordo benissimo che ai tempi in cui lavoravo col computer quando tutto il resto del mondo lavorava a mano c'era sempre l'argomento eh ma è digitale fatto col computer non è la stessa cosa è paradossale che si ritenga che l'arte è in pericolo perché è arrivata l'arte fatta dall'intelligenza artificiale che è digitale per definizione cioè fino all'altro giorno l'arte digitale non era arte e adesso una particolare branca dell'arte digitale vorrebbe significare la fine dell'arte mi sembra che questa almeno sia una buona notizia per tutti quelli che fanno arte digitale abbiamo appena scoperto che l'intera arte è l'arte digitale e non esiste più quell'altra la parola arte ha talmente tante definizioni che è un po' come la pelle no come si suol dire la possiamo tirare da tutte le parti e quindi non credo che per forza andiamo d'accordo sulla definizione di arte faccio sempre fatica a definirmi un artista semplicemente perché per la maggior parte quello che faccio tutto il giorno è su committenza fare qualcosa di bello all'interno di paletti io mi diverto credo di star facendo arte però magari per qualcuno questo non è arte perché l'arte esiste solo nel momento in cui viene fuori dalla tua testa e basta per quanto mi riguarda l'arte della generazione automatica di immagini ha già creato prodotti artistici questo è solo un esempio vi consiglio di leggere l'argomento in italiano l'ha descritta bene Matteo Flora sul suo canale con questo video qui la storia di Lube il demone che vive nelle intelligenze artificiali vi consiglio di guardarlo perché secondo me è un esempio di vera e propria opera d'arte creata attraverso questi sistemi di generazione immagini nel senso che c'è un racconto dietro c'è la voglia di raccontare una storia di creare delle emozioni viene fatta attraverso l'arte generativa presumo se non ricordo male con Mid Journey e effettivamente è un'opera che può essere fatta solo in quel modo perché il tipo di narrazione come si suol dire che c'è dietro funziona solo per via di quello che in questo momento è l'arte generativa le paure che ci fa e quindi è molto interessante anche proprio come tecnicamente è stato ottenuto quindi attraverso la negazione di Prompt questo è per dire che sono passati solo un paio di mesi dall'esistenza dello strumento e c'è chi è già riuscito secondo me a creare davvero qualcosa di unico e artistico per quanto riguarda la mia definizione utilizzando questo strumento quindi non per forza non esiste l'arte generata da Mid Journey può non piacere ovviamente come tutte le opere d'arte però effettivamente esiste consigli di argomentazioni sull'arte AI che mi hanno fatto pensare molto questo video di Steven Zapata lo trovate qui The End of Art An Argument Against Image and Eyes molto interessante anche quando riprende gli stessi argomenti in questo lungo video su Art Cafè un canale che vi consiglio di Maci e Kuciara insieme sempre a Steven Zapata parlano del suo video per cui è meglio aver visto l'altro video prima ho trovato interessante anche i discorsi di Nathan Fawkes in particolare credo questo qua primo dopodiché sul canale Youtube di Gravity Sketch andando a cercarlo Jama Jurabaev che mi ha insegnato molto e che ha un approccio come al solito laicissimo all'argomento vi sto dando delle persone che hanno delle idee anche molto diverse tra di loro venendo a dei contenuti in italiano questo ovviamente è assai meno tecnico Rick Dufer il problema con i ritratti dell'intelligenza artificiale che in realtà non affronta nessun ambito artistico tocca delle cose che io non ho detto assolutamente nel mio video e che sono comunque importanti perché hanno a che fare con l'eventuale progresso di queste tecnologie su campi diversi da informatico queste cose qui le ho ben presente e ci sono dei problemi di sicurezza attorno a queste cose molto divulgativo per introdurre diciamo l'argomento e dopo di che la miglior cosa che sia stata scritta su tutto questo Lorenzo Ceccotti ovviamente visto che è probabilmente il migliore per parlare di arte digitale testo molto lungo che secondo me chiunque dovrebbe prendersi la briga di leggere questo qui Click to Image è il primo e dopo di che lui ha anche appunti per una proposta normativa integrazione delle AI Act in sede europea quello che io dico in questo mio video fa capire che alcune delle cose che propone lui secondo me non sono realizzabili altre delle cose che propone lui secondo me non sono diciamo desiderabili da parte mia ma sono perfettamente d'accordo con il fatto che qualcuno voglia fare dell'attivismo da questo punto di vista pur non essendo io d'accordo con una parte di quello che c'è scritto qui io penso che invece molti potranno trovarsi d'accordo vi consiglio di dargli un'occhiata ma soprattutto dal punto di vista teorico questo articolo è quanto di meglio si possa trovare in giro personalmente credo che ci troviamo in un'epoca di questo tipo ne ho sentiti di paragoni dalla fotografia alla stampa sinceramente se devo fare un paragone io penso dell'invenzione delle armi da fuoco se penso a quello che era la guerra prima era una cosa artistica io sono un praticante di arti marziali si chiamano arti marziali per un certo motivo proprio perché era un'arte che andava presa fin da bambini c'era una casta intera i nobili la cui unica esistenza era la capacità di far la guerra dedicavano l'intera vita a farla bene e ne avevano dei privilegi dal punto di vista sociale per via di questo e avevano anche tutta una serie di codici di condotta e di etica che li portavano a fare le cose in una certa maniera era considerata un'arte le armi da fuoco hanno permesso a chiunque anche il peggiore dei contadini ignoranti di poter ammazzare il più bravo dei nobili che per anni aveva imparato l'arte della spada io sono friulano fiore dei liberi è l'inventore della scherma medievale fondamentalmente che abbiamo da noi e era qualcosa che si imparava e che assolutamente non si poteva pensare che il primo che arriva fosse capace senza aver imparato nulla di fare la guerra era una cosa artistica in un senso che noi adesso non riusciamo ad immaginare questa scena per me rappresenta esattamente quello di cui sto parlando c'è tutto quanto abbiamo una persona rispettata da tutti quanti che ha dedicato la propria esistenza a imparare l'arte della spada e il primo americano che arriva fondamentalmente ignorante con un oggetto che lui non ha assolutamente costruito e che è facilissimo da usare da portare in giro e anche con guardate con che aria proprio lo fa con l'aria annoiata di accidenti mi tocca anche questa lo uccide distruggendo così l'intera conoscenza che stava dentro a quella persona e che ci aveva messo 40 anni a sviluppare per me è quello che sta succedendo se proprio devo cercare un paragone storico può essere visto come qualcosa di pessimista probabilmente lo è in realtà io voglio comunque cercare di vederlo in maniera ottimista perché preferisco questo mondo nel quale decine di rivoluzioni sono state fatte con un kalashnikov arma decisamente scarsa dal punto di vista artistico ci siamo liberati dei nobili nella rivoluzione francese e io penso che l'umanità nella sua interezza ne abbia guadagnato dalla fine di questa arte certamente non l'hanno presa bene le persone che all'epoca facevano questo mestiere se guardate questo film avete un'idea comunque basta guardare un qualsiasi western come la ballata di Cable Hoog o qualcosa del genere è un classico del western la fine di un'era e l'inizio di un'altra se la nostalgia è così forte da trovarsi in un mondo che non ci piace più non dico che sia piacevole per chi c'è però per chi arriva per chi adesso nasce adesso sarà il mondo normale che si trova davanti e si divertirà probabilmente comunque non avrà idea di quello che la nostalgia a noi può dare chiaramente è più romantico il personaggio del vecchietto del film western che non abbandona la sua proprietà di fronte all'arrivo del cavallo di ferro e a tutte queste cose anche per carattere probabilmente io sarei di più il vecchietto appunto sotto il portico col fucile però alla fine vorrei essere Indiana Jones tra i due userò volentieri l'intelligenza artificiale tutte le volte che la troverò utile per quello che devo fare quando invece non mi servirà non la userò come tutte le altre cose che ci sono mi interessa abbastanza poco il discorso se sia un collaboratore che sto pagando pochissimo e col quale faccio dell'art direction molto difficile perché capisce poco e devo aggiustarlo di continuo o se sia uno strumento lo trovo secondario è qualcosa che farà parte del mio flusso di lavoro in questo video ho spiegato tutti quelli che sono i miei dubbi vanno oltre al discorso del copyright non sono entusiasta della cosa però di sicuro voglio divertirmi con tutti gli strumenti che ci sono sotto mano finora l'ho utilizzato e mi sono divertito il giorno che non mi diverto più smetterò di usarlo e che debbano rispettare le leggi è un affare di chi vende e non mio ho fatto un video lunghissimo mi ci è voluto tanto tempo proprio perché ho voluto mostrarvi il percorso mentale che ho fatto e sto ancora facendo per arrivare a delle opinioni piuttosto che buttarle lì con una bandierina messa sul profilo che è qualcosa che non apprezzo mai io comunque come dicevo non è che ho dei punti fissi di dove le cose andranno mi fermo nel momento in cui so che quello che posso fare io è decisamente poco nei confronti di quello che deciderà di fare il grosso del mondo sono abbastanza sicuro che si possa correre il rischio di fare gli stessi sbagli che sono stati fatti dal mondo della musica vent'anni fa e mi dispiacerebbe vederli ecco semplicemente spero di poter partecipare a un mercato che sta meglio di quello della musica insomma andando avanti grazie della pazienza di un video così lungo e così diverso dal solito e alla prossima